metria. Parliamo dei prismi. Come sono fatti i prismi? Prendiamo per esempio un prisma che appartiene alla categoria dei poliedri. I poliedri sono quelle figure che hanno facce a forma di figura geometrica piana. Hanno due basi, in questo caso i prismi, una base sopra e una base sotto e hanno delle facce laterali. Questo è il caso di un prisma a base quadrata. Nella prospettiva del disegno sembra un rombo oppure un parallelogramma, in realtà è un quadrato. Se io faccio lo sviluppo di questo prisma, praticamente ottengo di trovarmi davanti una serie di facce rettangolari tutte uguali tra di loro, tutte uguali perché fanno parte tutte dei lati, sono attaccate tutte ai lati di un quadrato, un quadrato sopra e un quadrato sotto. Quindi questo segmento così lungo, praticamente la base del rettangolo, che io ho ottenuto con lo sviluppo del prisma, è costituito dalle somme dei lati del nostro quadrato di base. Quindi in realtà questo è il perimetro di base, perimetro di base, che è ottenuto facendo la somma di tutti i lati del quadrato. L'altezza di questo rettangolo corrisponde all'altezza del nostro prisma. Con la L indichiamo il lato di ogni lato del quadrato. Se io voglio fare la superficie di tutta questa, di tutto questo rettangolo, che si chiama superficie laterale o area laterale, debbo fare l'area di un rettangolo, quindi perimetro per altezza. Perimetro in questo caso è il perimetro di base, per altezza. Il perimetro di base lo ottengo con il perimetro di un quadrato e quindi quattro volte il lato. Se invece di un quadrato fosse stato un pentagono avrei dovuto fare 5 per L. Se fosse stato un triangolo avrei dovuto fare 3 per L. Una volta calcolato il perimetro della base, lo posso mettere nella formula per ottenere la superficie laterale. Se invece voglio ottenere la superficie totale, e cioè superficie totale, è formata da che cosa? Tutta la superficie laterale più una base e l'altra base, l'area di tutte e due, quindi due volte l'area della base. Anche in questo caso l'area della base dipende che forma ha questa base. Se la base è un quadrato, come in questo caso, io so che l'area del quadrato è uguale a lato alla seconda. Se invece si tratta di un triangolo, mi devono dare l'altezza di quel triangolo e faccio base per altezza diviso 2. Se è un rombo, faccio diagonale maggiore per diagonale minore diviso 2 e così via, in base alla forma che ha il poligono che forma la base. Quindi, ricapitolando, cancello un attimo, anzi non scrivo qua. Superficie totale è uguale a superficie laterale più le due aree di base. La superficie laterale è uguale al perimetro della base per l'altezza, come se fosse l'area di un rettangolo. Da queste formule verranno le formule inverse. Per esempio, se io ho la superficie laterale e voglio trovare il perimetro di base e mi hanno dato l'altezza, io che cosa faccio? Perimetro di base è uguale a superficie laterale fratto altezza. Se invece ho la superficie laterale e il perimetro di base, mi posso calcolare l'altezza. Superficie laterale fratto perimetro di base. E queste sono le due formule inverse della superficie laterale. Se invece vogliamo fare le formule inverse della superficie totale, dobbiamo semplicemente fare delle sottrazioni. Perché se la superficie totale è uguale alla superficie laterale più le due aree di base, se io voglio trovare, per esempio, la superficie laterale e ho questa, devo fare superficie laterale è uguale a superficie totale meno le due aree di base. Se invece voglio trovare l'area di una base, devo fare superficie totale meno la superficie laterale, però poi devo fare diviso due perché qui le aree di base erano due. Se io ne voglio una sola, quando faccio la sottrazione, poi devo dividere per due per averne una sola.